www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Passiamo subito la parola a Giancarlo Gisonni, nuovamente alla conduzione del settimanale di attualità, parliamoci chiaro, che torna a partire da questa sera ovviamente su TV Prato. A te Giancarlo. Sì, grazie a voi tutti, buonasera. Siamo pronti per una nuova stagione che iniziamo questa sera probabilmente come la concluderemo perché ci occupiamo delle amministrative del 2019. Vi ricordo, al maggio del prossimo anno i pratesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Ancora non sono stati sciolti i nodi delle candidature nelle varie forze politiche, anche se c'è molto fermento in questi giorni e sono anche tanti gli spunti della cronaca politica che ci vengono forniti e che affronteremo questa sera con gli ospiti in studio, ovvero il segretario provinciale del Partito Democratico, avremo poi Rita Pieri, capogruppo di Forza Italia, si fa il suo nome tra i possibili candidati del centro-destra e poi ancora Enrico Zucchi della Lega e Diego Blasi di Prato 2040. Collegamenti in esterno dal Caffè Bacchino con altri esponenti politici e poi ovviamente voi da casa, come sempre, potrete interagire con i nostri ospiti inviando messaggi. A più tardi, 21 e 20. Parliamoci chiaro. Grazie Giancarlo Gisonni e noi andiamo avanti con il nostro giornale. Caporalato e sfruttamento del lavoro nelle confezioni cinesi. In aumento l'emersione dei casi grazie al protocollo siglato a maggio scorso fra Comune e Procura. 11 le notizie di reato di questo tipo all'attenzione della magistratura pratese da inizio 2018. Decisiva anche la riforma della legge che due anni fa ha impresso un giro di vite per contrastare il fenomeno. Sentiamo Dario Zona. Sono ben 11 le notizie di reato per caporalato e sfruttamento del lavoro giunte alla Procura di Prato nel 2018, di cui 4 scaturite da segnalazioni allo sportello Immigrazione del Comune dal maggio scorso, quando per contrastare il fenomeno è stato siglato un protocollo d'intesa congiunto. In tutto sono una trentina i casi sospetti arrivati all'attenzione del Comune, quasi tutti aventi ad oggetto confezioni cinesi, i cui lavoratori, spesso emigrati di altre etnie o richiedenti asilo, hanno avuto il coraggio di raccontare le loro storie. I risultati incominciano ad arrivare anche se, come abbiamo detto nel corso del convegno, il problema è quello di abbattere l'omertà che è insita in queste situazioni, cioè ci sono i lavoratori sfruttati, la cui collaborazione è fondamentale per le nostre indagini. Quindi bisogna un attimino creare le condizioni perché questa collaborazione possa essere praticata. Degli strumenti di tutela per le vittime si è parlato stamani in un convegno al Museo Pecci in occasione della dodicesima giornata europea contro la tratta di esseri umani. Al centro del confronto è il nuovo articolo 603 bis del Codice Penale, introdotto due anni fa con la legge 199 che ha riscritto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ampliando la tutela delle vittime e migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi il nuovo autore del reato di caporalato per la legge non è più soltanto l'intermediario, ma il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore, approfittando del suo stato di bisogno, anche senza violenza o minacce, ma semplicemente con retribuzioni molto al di sotto dei limiti contrattuali, violazioni reiterate su orari di lavoro, riposo, ferie o delle norme di sicurezza e igiene. Punito anche l'imprenditore che sottopone la persona a condizioni di lavoro, sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. Le pene sono molto più severe, da 1 a 6 anni di reclusione. L'importante è che si espanda, come dicevo oggi benissimo, la relazione del dottor Gestri una cultura del contrasto, dei diritti, di quelli che sono i doveri sia per chi prova a fare il furbo e anche per chi viene sfruttato, nel senso che deve questa conoscenza della nuova legge e degli strumenti che a questa legge sono accompagnati, noi dobbiamo provare a diffondere il più possibile. Tra i meriti del protocollo c'è quello di aver previsto una stretta collaborazione fra la Procura e l'Ufficio Immigrazione del Comune, a contatto con cooperative sociali e sentinelle sul territorio in grado di dialogare con i lavoratori sfruttati. Le forze dell'ordine, dice bene il procuratore, dovranno con noi cercare di definire dei modelli operativi seri dal momento in cui la notizia di reato c'è, ma la spia per andare a controllare un posto anziché un altro, la sentinella mi deve venire da altre parti. E in questo senso la sfida è una sfida comune, per la prima volta è una sfida comune perché il nostro territorio questo problema lo pone, è una risposta anche menale, forse in alcuni casi lo merita. La lotta allo sfruttamento di manodopera clandestina ha portato all'arresto di due imprenditrici, la titolare e la gestrice di una confezione cinese che era già stata controllata meno di un mese fa con la successiva sospensione dell'attività. L'azienda che nel frattempo aveva cambiato ragione sociale impiegava clandestini che venivano costretti a lavorare in condizioni disumane e sotto minaccia. I carabinieri della tenenza di Montemurlo insieme ai colleghi dell'ispettorato del lavoro di Prato hanno ispezionato nuovamente la ditta, trovando al lavoro 17 operai di cui 7 irregolari tutti di origine africana. L'attività è stata sospesa e le due imprenditrici arrestate in flagranza per sfruttamento di manodopera clandestina aggravata. Attualmente si trovano ai domiciliari, elevata anche una sanzione di oltre 25 mila euro, denunciati i lavoratori irregolari per i quali è stato avviato l'iter di espulsione. Voltiamo pagina, la declassata diventa di competenza di ANAS, domani la firma per la statalizzazione della strada. In attesa del progetto definitivo di ANAS per il sottopasso del soccorso, prosegue il lavoro del comune per la realizzazione delle complanari. Resta ancora incertezza per i 10 milioni che mancano all'appello per la copertura finanziaria dell'opera. Domani in regione sarà sottoscritto il passaggio di competenze della declassata dal comune ad ANAS. Si tratta di un tassolo importante, atteso da tempo ma formalmente mai avvenuto, nei liter per la realizzazione del sottopasso del soccorso. Una volta formalizzato il passaggio, ANAS dovrà poi stilare il progetto esecutivo dell'opera, che dovrà passare dal vaglio della valutazione di impatto ambientale. Al momento, secondo il progetto di fattibilità, l'opera completa dovrebbe avere un costo indicativo di 46 milioni di euro, 36 dei quali coperti. All'appello ne mancano ancora 10, che dovrebbe mettere lo Stato, anche se per questa ulteriore copertura non vi sono certezze. È invece certo che ANAS non avvierà l'opera se non sarà finanziata completamente. Sempre ANAS a breve installerà i sensori per monitorare il livello della falda, dati che saranno utili in fase di progettazione per capire se occorreranno ulteriori accorgimenti per il contenimento delle acque. Nella situazione si è discusso nel corso di una seduta congiunta delle commissioni urbanistiche e mobilità. La riunione è servita anche per fare il punto sulle opere di competenza del comune, che hanno un costo di 6 milioni e riguardano la realizzazione del parco di superficie e delle complanari. La prima complanare di via Tasso è già pronta e aperta. Per la seconda, che congiungerà via del Purgatorio a via Nenni, è stata completata la fase di esproprio dei terreni e degli edifici. Entro il 30 novembre il comune entrerà in possesso degli immobili e dei terreni e dentro la fine dell'anno dovrebbero partire lavori. Ancora la cronaca. È stato bravo a intuire la situazione a non lasciarsi convincere l'automobilista che nella mattinata di ieri è incappato in un individuo specializzato nella truffa dello specchietto. La vittima prescelta, un 50enne, stava guidando lungo le strade di Artimino quando è stato costretto a fermarsi da un uomo che viaggiava su una golf. Il truffatore ha cercato con insistenza di addossare all'automobilista la responsabilità del danno a uno degli specchietti per poi convincerlo a chiudere la faccenda in contanti per non far aumentare il premio dell'assicurazione. L'uomo però non si è lasciato convincere e dopo essersi rifiutato di pagare la somma richiesta ha subito chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Carmignano che hanno ricostruito l'accaduto e denunciato il responsabile per tentata truffa. E stasera d'intorno alle 9 in onda subito dopo il nostro telegiornale si parla di guida sicura e strade pericolose. Ospiti in studio il comandante della Polizia Municipale Andrea Pasquinelli e Nicola Fontani responsabile dell'ufficio Sinistri. Al centro della puntata i dati sugli incidenti, le nuove tecniche per la rilevazione dei sinistri e la questione autovelox. Appuntamento quindi al termine del nostro TG. Voltiamo a pagina. La raccolta differenziata a Prato sfiora il 72%. Quello pratese è l'unico capoluogo provinciale della Toscana a figurare tra i comuni più virtuosi. Il comune di Prato ha inoltre ricevuto una menzione speciale nell'ambito dei comuni ricicloni 2018 a Riana Di Rubba. Dati positivi sul fronte della raccolta differenziata che in Toscana nel 2017 sale di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2016 e quanto si vince dalla classifica elaborata dalla regione toscana sulla base dei dati certificati della raccolta differenziata per il 2017. Per quanto riguarda il nostro territorio, con una percentuale del 71,65%, con oltre 6 punti in più rispetto all'obiettivo del 65% indicato dalle normative in tema di rifiuti, Prato è l'unica città capoluogo di provincia della Toscana a risultare nella classifica degli 87 comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Il dato di Prato è significativo se rapportato al dato medio regionale del 53,9% di raccolta differenziata e quello medio del lato di ambito Toscana-Centro, che raggruppa la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, che si attesta al 58,7%. Soddisfatto è l'assessore all'ambiente Filippo Alessi, che ha sottolineato come la strada sia ancora lunga ma i risultati si iniziano a vedere e sono buoni. Non siamo una realtà facile, ha spiegato Alessi, il boom era prevedibile anche in seguita alla diassimilazione degli scarti testili, ma siamo di fronte ad una crescita per noi motivo di orgoglio. Classifica di virtuosità nella quale, tra l'altro, figurano anche tutti gli altri comuni della provincia di Prato. Risultato migliore per Cantagallo col 72,94%, segue Carmignano al 72,41%, Montemurlo con il 71,28%, Vaiano invece raggiunge quota 71,17%, Poco sotto Paggia Caiano col 71,10% e infine Vernio che sfiora il 71%. E per il 2018 i dati fanno ben sperare, i numeri delineano infatti una crescita di oltre un punto e mezzo percentuale rispetto all'anno precedente. Altro risultato positivo, Lega Ambiente ha dato dalle un encomio per il lavoro capillare effettuato, con il supporto dei mediatori culturali, nella zona del Macrolotto Zero in occasione dell'introduzione della raccolta porta a porta. Ha notato una BMW a girarsi in maniera sospetta nel parcheggio del centro commerciale di Via delle Pleia, di intorno alle 23. Per questo un operatore di Polizia di Stato di Firenze, libero dal servizio, ha seguito la vettura e ha visto il conducente scendere e allontanarsi verso i negozi. Contattata la Polizia, gli agenti hanno verificato che l'auto era stata rubata a Prato, in Via Manin, il 23 agosto scorso ai danni di un cittadino cinese. Il conducente orientale, alla vista della pattuglia, ha tentato di defilarsi in zona per eludere i controlli. Si tratta di un 22enne cinese, residente a Firenze e regolare sul territorio. All'auto erano state apposte targhe di un veicolo differente. Il giovane orientale è stato denunciato per ricettazione e l'auto e le targhe sono state sottoposte a sequestro. Nuova scuola materna di Ponzano sarà aperta nel prossimo anno scolastico. Il Comune assicura con la sua apertura non ci saranno ripercussioni sul traffico veicolare di Viale della Repubblica. Ce ne parla Lucrezia Sandri. Dopo la posa della prima pietra, esattamente un anno fa, procedono i lavori alla scuola materna di Ponzano, in Viale Montegrappa. Questa mattina è il sopralluogo del sindaco Matteo Biffoni, nell'edificio, che sarà pronto in primavera per accogliere 180 bambini il prossimo anno scolastico. Un anno più tardi rispetto a quanto previsto, a causa di alcuni problemi dovuti alla fornitura del legno da parte della ditta bresciana, qui il materiale è stato subappaltato. La scuola infatti è interamente costruita in legno ed è la prima di questo genere nel Comune di Prato, per 1600 metri quadrati di superficie coperta e 2800 di giardini. Verrà poi inoltre previsto tutto un sistema di orti, sia interni che esterni alla struttura, per lavorare sulla didattica insieme ai bambini e quindi allo scopo di favorire questo approccio sempre più stretto tra la natura e i bambini. Le sei sezioni della scuola di Ponzano accoglieranno i bambini delle tre classi della materna Maurizia Tradidi, di Viale Borgo Valsugana, che sarà chiusa. Previsti due accessi alla struttura, uno principale da Viale Montegrappa e un altro da Viale della Repubblica, accanto alle medie Pier Cironi. Inevitabile pensare ad un aumento del traffico veicolare su una zona già problematica, con la presenza delle scuole medie e dell'Istituto Buzzi. Davanti a questa nuova scuola esiste un parcheggio pubblico, nella pianificazione tra l'altro è stato previsto un altro parcheggio pubblico, quindi di ampliare il parcheggio pubblico su Viale Montegrappa sostanzialmente, e questa scuola permette di avere diversi accessi. Oltretutto comunque c'è da tenere conto che gli orari di ingresso delle diverse tipologie di scuola che ci sono, sono differenziati proprio per cercare di non creare dei momenti di intoppo. Quindi questo riguarda in generale tutto l'orario scolastico e l'organizzazione dell'orario scolastico. L'operazione Gioco Sicuro del Comune di Vaiano, sperimentata in Via della Vergine a Schignano, è piaciuta ai cittadini e soprattutto ai bambini. Due simpatici cartelli che avvertono della presenza di bambini che giocano, sono stati sistemati nella strada molto abitata e a limite di velocità 30. Da qualche giorno l'iniziativa sta raccogliendo l'approvazione di moltissime persone, soprattutto su Facebook. Una sperimentazione positiva che il Comune, sottolinea il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, intende allargare anche ad altre aree del territorio. Il Macrolotto Zero, visto attraverso gli occhi delle nuove generazioni di cittadini cinesi, è il progetto Prato Social Challenge, che sfrutta le potenzialità dei social network. Vediamo di cosa si tratta. Creare, raccogliere e diffondere messaggi e contenuti positivi tra gli adolescenti attraverso i social. È questo l'obiettivo del Prato Social Challenge, il progetto ideato da Data Life Lab e Kinoa. I protagonisti di questa particolare esperienza sono stati gli adolescenti di origine cinese che hanno fotografato e postato numerosi scatti che raccontano la loro vita a Prato e luoghi che più preferiscono. Tra questi troviamo i giardini di Via Colombo, luogo di incontro preferito da molti adolescenti, ma anche da bambini ed anziani. E Via Pistoiese, strada che gli stessi ragazzi definiscono Chinatown. Tra le numerose foto scattate e postate sono presenti anche immagini che raffigurano i loro cibi preferiti. Tra questi, oltre che ai cibi orientali, troviamo la pizza. Altre foto sono state scattate fuori dal quartiere del Macrolotto Zero, ma rappresentano comunque luoghi importanti per i ragazzi, come il Liceo delle Scienze Umane Gianni Rodari ed il Centro Commerciale Omnia Center. La Social Challenge ha permesso di intraprendere un piccolo viaggio all'interno del Macrolotto Zero, attraverso gli occhi dei ragazzi cinesi che lo vivono, mettendo in risalto un piccolo particolare. Il centro storico non è mai stato fotografato. Segno tangibile che questo, nonostante la vicinanza fisica, non è un luogo dal loro vissuto. Ci spostiamo adesso a Montemurlo. Al posto del rudere agricolo nascerà un albergo con 66 posti letto, ma anche un'area ristoro e benessere. Vediamo dove. Un albergo con 66 posti letto, tra camere, suite e mini appartamenti, è quello che nascerà nel complesso edilizio Il Vivaio, in via Parugiano di sopra a Bagnolo. Si concretizza così la vocazione turistica della frazione attraverso un intervento strutturale, che permetterà di trasformare e riqualificare il grande casolare da almeno 20 anni in stato di abbandono. Il Consiglio Comunale di Montemurlo ha dato il via libera lo scorso 27 settembre alla variante al piano di recupero del rudere agricolo, modificando la precedente previsione urbanistica da residenziale a ricettiva. La società Diana SRL realizzerà la grande e suggestiva struttura. Quando la famiglia Corrieri ci ha proposto questo progetto, noi siamo stati ben lieti di fare una variante, di assecondare questo tipo di cambiamento e qui, posso dire, verrà un investimento da un punto di vista, diciamo, recettivo e commerciale, uno dei più belli e più grandi del territorio. Ma la scelta perché nella zona non ci sono centri recettivi importanti e per cui abbiamo deciso di fare questo tipo di investimento che secondo noi c'è la necessità per le mancanze di strutture che c'è nel Comune di Montemurlo, a livello di alberghiero, a livello di spa, a livello di ristorante. Il progetto prevede un recupero in sintonia con l'aspetto originario del complesso rurale e dell'ambiente agricolo circostante, come i sassi a vista o alcuni elementi tipici dei fienili, i mandorlati. L'albergo sarà composto da 13 camere e 4 suite, dotate anche di spazio soggiorno e 5 mini appartamenti autonomi completi di angolo cottura. Ci saranno inoltre spazi per l'accoglienza della clientela, un'area ristoro e benessere aperti a tutta la città e non solo ai clienti dell'hotel, per complessivi 2000 metri quadri al coperto. Intorno al cascinale e lungo la via Parugiano saranno piantati filari di olivo per mantenere l'anima toscana di tutta la zona. Ogni restauro è un po' uno strappo perché perdi qualcosa, allora la nostra sfida è cercare di trasformare questo luogo che ha sulla pelle proprio la memoria, la bellezza delle cose antiche in un luogo assolutamente contemporaneo, tecnologico, sostenibile, senza perdere quella patina che il tempo gli ha lasciato sopra. Io credo che con l'inizio dell'anno nuovo si possa dar corso a quelli che sono gli interventi di trasformazione vera e propria degli immobili che già sono esistenti. E c'è poi la previsione di attuare quello che già abbiamo previsto nel piano strutturale che prevede un potenziamento di quelle che sono le strutture recettive in questa zona di Pagnolo, in particolare la villa del Parugiano e anche questi immobili qui. La 24 ore del senatore Guido Bisori e la scatola dei colori della pittrice Elena Berruti. Sono sei le personalità pratesi del Novecento attorno alle quali ruota la mostra La scatola dei ricordi. Un viaggio evocativo tra scritti autografi, cartoline e oggetti di uso quotidiano ideato dall'archivio di Stato e dalla biblioteca roncioniana. La mostra allestita presso l'archivio di Stato è a ingresso libero e rimarrà aperta fino al 14 dicembre. Guardate. Fotografie, quadri, scritti, autografi ma anche oggetti di uso quotidiano come la 24 ore del senatore Guido Bisori e la collezione di farfalle della pittrice Elena Berruti. Sono sei personaggi pratesi del Novecento che raccontano chi erano nella mostra La scatola dei ricordi ideata dall'archivio di Stato e dalla biblioteca roncioniana. Documenti pubblici e privati, letterari e iconografici ma anche oggetti personali degli artisti sono esposti nella sala dell'archivio di Stato che ospita la mostra che crea un percorso basato sul grande potere evocativo dei ricordi. In questo tempo che si potrebbe anche definire o l'hanno definito della dimenticanza allora mi ha portato a una riflessione sulle dinamiche con cui la memoria si sedimenta. La mostra cerca di parlare di memoria, della trasmissione della memoria di sé e lo fa tramite un percorso che coinvolge sei personalità pratesi del Novecento esponendo le loro scatole dei ricordi e mettendo in evidenza così i loro modi diversi di trasmissione, di rapportarsi alla propria memoria. La mostra La scatola dei ricordi, sottotitolo Siamo la nostra memoria, lasciamo segni si inserisce nella rassegna un autunno da sfogliare del sistema bibliotecario pratese e rimarrà esposta fino al 14 dicembre. È visitabile il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 17.20 e il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.50. L'ingresso è libero. Attivare le collaborazioni tra enti diversi mi sembra importante come in questo caso l'archivio di Stato e la biblioteca roncioniana che in particolare ha questa vocazione e attitudine a conservare la memoria ma conservare la memoria non vuol dire tanto tenerla semplicemente rinchiusa negli scaffali ma che tutto ciò esca fuori e diventi fruibile e più possibile per tutti. Ad arricchire l'esposizione è un video realizzato da uno studente del liceo Rodari che nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro presso l'archivio di Stato ha raccolto le interviste di coloro che hanno conosciuto i sei personaggi pratesi attorno a cui ruota la mostra. Il video è una voce che accompagna, una seconda voce appunto che accompagna questi oggetti e che tramite la testimonianza di questi personaggi di queste persone che appunto hanno parlato di questi personaggi pratesi hanno potuto, come posso dire, dare un'ulteriore spiegazione della loro presenza appunto qui. Via i lavori per la risemina del manto erboso allo stadio Lungo Bisenzio infestato dalla Gramigna L'impianto sarà pronto tra tre settimane e potrebbe essere utilizzato dalla squadra di calcio femminile Florenzia Sono partiti i lavori per la risistemazione del manto erboso dello stadio Lungo Bisenzio che era stato infestato dalla Gramigna nonostante il completo rifacimento del terreno di gioco compiuto la scorsa estate nell'ambito del restyling dell'impianto. Il Comune, rientrato in possesso dello stadio dopo lo sfratto al Prato di Toccafondi ha scoperto che il manto erboso presentava avvallamenti e criticità tali da impedire la disputa di competizioni ufficiali come la prevista gara della UEFA Regions Cup la massima rassegna continentale dedicata al calcio di lettanti. Individuata la ditta esecutrice per un importo di circa 11.000 euro il Comune ha fatto partire i lavori che dureranno pochi giorni La Gramigna è stata estirpata e si sta ora procedendo alla risemina dell'erba lungo tutto il terreno di gioco e nel campino degli allenamenti Affinché il Lungo Bisenzio possa tornare ad ospitare una partita di calcio saranno necessarie altre tre settimane per la crescita e la sistemazione del manto erboso In questo lasso di tempo dovrà essere perfezionata l'assegnazione dell'impianto alla società di calcio femminile Florenzia dell'imprenditore pratese Tommaso Becagli l'unica a rispondere al bando del Comune e a manifestare interesse per l'uso continuativo dello stadio La squadra sta disputando le prime partite interne a Figline-Valdarno ma potrebbe trovare un accordo con il Comune per il proseguo della stagione prendendo in affitto gli spazi per partite e allenamenti secondo il tariffario vigente Una possibilità, quella di prendere in affitto lo stadio per singole gare o manifestazioni che resta aperta anche per altre società sportive In attesa di definire, a inizio 2019, un nuovo bando per l'affidamento in gestione del Lungo Bisenzio il Comune potrebbe a breve perfezionare l'affidamento in ausa con Siag Servizi la partecipata che si occupa di manutenzione del verde pubblico Domenica prossima il Palacobilizza di Maliseti ospiterà la prima edizione del quadrangolare di pallamano a ruota libera Vediamo di cosa si tratta Sport e divertimento sono questi i principali ingredienti della prima quadrangolare di pallamano a ruota libera L'iniziativa, in programma domenica 21 ottobre, si svolgerà al Palacobilizza di Maliseti e vedrà coinvolte quattro squadre composte da ragazzi normodotati e da ragazzi disabili che si sfideranno in un girone unico Ho organizzato questo evento per dare maggior visibilità e per far conoscere il progetto anche in maniera più ampia Verranno delle squadre da Perugia, dalla provincia di Firenze e da Prato e si scontreranno per passare una giornata di sport e inclusione tutti insieme La prima quadrangolare di pallamano a ruota libera, oltre che una giornata all'insegna dello sport e del divertimento è anche un'importante iniziativa per riconoscere il grande lavoro di inclusione sportiva che si sta svolgendo nel nostro territorio Nei prossimi mesi le società pratesi della pallamano verranno dotate di sette carrozzine sportive Una di queste, acquistata da Gida, è già stata donata Un passo importante per permettere a tutti di esprimere le proprie potenzialità attraverso lo sport È un torneo a cui noi abbiamo creduto molto perché abbiamo verificato l'importanza di creare dei percorsi in cui tutti gli atleti siano considerati atleti per quel che sono indipendentemente da eventuali diverse abilità Abbiamo costruito un percorso per dotare anche la società pallamano prato degli strumenti per poi giocare, quindi le carrozzine Abbiamo creato una sinergia insieme alla società Gida per l'acquisto immediato di una carrozzina che sarà a disposizione del torneo già da domenica e come amministrazione comunale siamo in definizione per l'acquisto di un'ulteriore carrozzina che sarà messa a disposizione della palestra in via Valentini dove la società fa i suoi allenamenti Ci fermiamo adesso per una breve pausa, torniamo fra poco Per noi di Etrusca Medica al primo posto c'è la salute Siamo accanto a te in un percorso diagnostico e terapeutico completo offrendoti la nostra esperienza e le tecniche di cura più avanzate Etrusca Medica, il punto di riferimento per il tuo benessere La Casa dei Suoni La nuova stagione concertistica della Camerata Strumentale Città di Prato Abbandonati al piacere della pasticceria Vella Caffè Ben ritrovati, diamo adesso uno sguardo alla nostra agenda con tutti gli appuntamenti Da domani fino a domenica in Piazza Duomo dalle ore 10 si svolgerà la settima edizione di Prato di Cioccolato Mostra mercato dedicata al cioccolato artigianale con numerose degustazioni e corsi Sempre fino a domenica presso la ex fabbrica Meucci a Mercatale di Vernio Torna Dolce Vernio Manifestazione incentrata sul miele e sul mondo delle api che verrà inaugurata domani alle ore 21 Per il mese dedicato all'affidamento familiare presso la Biblioteca Comunale di Vaiano dalle ore 16 e 30 io leggo, tu leggi, noi leggiamo e ci affidiamo Sempre domani per creazioni urbane presso il Cinema Teatro Borsi alle ore 20 e 45 Bollicine, introduzione al mondo degli spumanti Presso il Circolo Costa Azzurra alle ore 21 andrà in scena invece lo spettacolo Tutta Colpa del Postino tra Sesto, Prato e Barberino Nel medesimo orario alla Camera di Commercio avventura ad alta quota incontro con l'alpinista Dennis Urubko a cura del CAI di Prato La sfida dell'educazione, essere padri e madri oggi è invece l'incontro con Franco Nembrini che si terrà alle ore 21 e 15 presso il Conservatorio di San Nicolò Per concludere, domani alle ore 21 e 30 con replica domenica alle ore 18 al Centro Pecci 8. Performance della compagnia King Caleri nell'ambito della mostra Il Museo Immaginato Storie di 30 anni di Centro Pecci E adesso la linea passa al Consorzio Lamma per le previsioni del meteo, a voi Una buona serata a tutti un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma La carta della pressione al suolo che vedete alle mie spalle ci mostra l'estensione dell'anticiprono dell'Azzurra verso l'Europa centrale alta pressione che tenderà a proteggere quindi anche gran parte della nostra penisola soprattutto le regioni centro-settentrionali permangono invece condizioni di instabilità fra la Nord Africa e le due isole maggiori lo vedete abbiamo indicato la possibilità ancora di qualche temporale andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di domani sulla nostra regione cielo in prevalenza sereno ovunque con venti deboli da quadranti settentrionali prevalenza est-nord-est i mari saranno calmi le temperature in lieve calo nei valori minimi le massime invece aumenteranno di 1-2 gradi quindi intorno ai 26-27 gradi per quanto riguarda la giornata di sabato ancora cielo in prevalenza sereno con locali velature soltanto nel corso del pomeriggio i venti soffriranno ancora debolmente da nord-est le temperature non subiranno variazioni di rilievo infine due parole anche per la giornata di domenica tempo più che discreto cielo in prevalenza sereno un po' conluvoloso dalla serata però è atteso un peggioramento arrivare a più fredda e instabile che potrà dar luogo poi nella nottata fra domenica e lunedì anche a qualche temporale l'informazione torna domani alle 13.45 con il telegiornale del giorno vi lascio quindi a intorno alle 9 a seguire parliamoci chiaro grazie per essere stati con noi arrivederci e una buona serata domani grazie a tutti grazie a tutti